Violata e le altre storie. Da uno spettacolo di danza diventa un evento online di sensibilizzazione per l'eliminazione della violenza sulla donna. Evento dell'Alfa ZTL, compagnia d'arte dinamica da sempre in prima linea nell'arte e nel sociale. E' fortemente voluto e organizzato dal coreografo Vito Alfarano, la danzatrice Stefania Catarinella e Marcello Biscosi. Un live talk con vari ospiti che hanno raccontato le loro storie. Violata, come detto, è uno spettacolo di danza previsto in questi giorni presso il nuovo Teatro Verdi di Brindisi. E' rinviato a marzo a causa della pandemia e sostituito in questa giornata i particolari da questo evento online. Anche se quest'anno, per gli ovvi motivi che tutti sappiamo, non abbiamo potuto calcare il palcoscenico del teatro in questa settimana come il nuovo Teatro Verdi di Brindisi, io e la mia danzatrice Stefania Catarinenna, interprete della coreografia, abbiamo comunque deciso di dare la nostra voce per aggiungerci a questo eco mondiale per dire basta alla violenza sulla donna. Ed è proprio per questo motivo appunto che è nato Violata e le altre storie dove andremo a parlare quindi di tante storie. La nostra appunto con Violata, questo spettacolo di danza contemporanea in coproduzione tra l'Alfa ZTL Compagnia d'Arte Dinamica di Brindisi e la fabula saltica di Rovigo. Poi ascolteremo tutte le altre storie dei nostri ospiti che saranno presenti nell'evento. In Violata noi non raccontiamo nessuna storia. La danzatrice è da sola in scena e facciamo vivere tutte le emozioni e le sensazioni che una donna vittima di violenza subisce. Ecco quindi principalmente quella che è poi di conseguenza la violenza psicologica che rimane in una donna. Violata che sarebbe dovuto andare in scena il 29 novembre nel nuovo Teatro Verdi Brindisi è stato rimandato al 21 marzo.